La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo al 2.5 Duranti. Il parere è contrario. Contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Di Gioia. La Camera respinge. Siamo al 2.7 All'Asia. C'è l'invito a ritiro, onorevole All'Asia. Ma l'emendamento di questa parte dell'articolo 2 è per cercare di essere meno generici ed essere alle volte realisti della situazione in cui vengono sfruttati i lavoratori. E dato che oramai neanche più i comunisti riescono a cercare di mantenere un'esistenza libera e dignitosa come prevede l'emendamento del nostro gruppo, lo chiediamo noi che ci possa essere il rispetto dei lavoratori in ogni parte del Paese. Perciò chiedo la votazione di questo emendamento. Semplicemente per chiarire che qui si trattava di diritti del lavoro e quindi il tema affrontato alla lettera numero 4 è questo e infatti poi accogliamo un emendamento successivo dell'onorevole All'Asia. La ringrazio, onorevole Ricciatti. Grazie, signor Presidente. Solo per tranquillizzare il collega All'Asia perché i comunisti, i figli e coloro che si considerano un po' figli di quella storia hanno ben a cuore i diritti sindacali nella tutela del mondo del lavoro e siccome il collega All'Asia vorrebbe sostituire tutta la partita dei diritti inerenti al mondo del lavoro con i diritti sindacali a quelli più genericamente considerati come diritti fondamentali noi ci asterremo su questo emendamento non perché non vorremmo riconosciuti a tutti i diritti fondamentali ma perché sarebbe quantomeno opportuno che ogni tanto ci si ricordi che ci sono anche i diritti del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.